Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare diciamo, l'ordine più elevato dal punto di vista dell'ordine spirituale, perché inizia ci sono quattro suddivisioni degli ordini sociali, quattro divisioni degli ordini spirituali. E nell'ordine spirituale il Sagnasi è la posizione più elevata, perché è lo stadio ultimo che si raggiunge quando si rinuncia completamente a questo mondo e non si possiede più niente, neanche i vestiti che si hanno addosso, allora si prende il Sagnasi. E sono tutti e due in carico di un tempio, uno si dà ammaragia e è caricato del tempio di Jaganakuri, e inizia da ammaragia e è caricato del tempio di Brindavana. E sono tutti e due dei grandissimi devoti che si sono impegnati costantemente nel servizio al Signore e al loro maestro spirituale. e loro vengono ogni anno qua in Occidente a portare un po' di misericordia, un po' di, come spiegheranno loro, a ricattare un po' di gloria del Signore, che sono la medicina che si può guarire dalla nostra malattia, dell'esistenza materiale. E grazie alla loro associazione noi possiamo ottenere un grande vantaggio. e io non è che posso dire tanto, meglio vi faccio parlare loro. Adesso magari cantiamo un po' e poi cominciamo a portare. Scusate, io ho un po' la voce basso, ho fatto il girare, cantare, e poi mi è venuto un po' di mal di gola, quindi non ho una grandissima voce da farmi sentire. Credo che lasciarvi il microfono o qualcosa e poi mi è venuto un po' di potenza. e poi mi è venuto un po' di potenza. e poi mi è venuto un po' di qui ci sono Grazie a tutti. 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 Noi adesso Grazie a tutti. 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 E tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. e 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 vi porterò un' buona medicina. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. tutti. e... e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 ... e... 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 ... e... 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 ... e... 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 ... e... e... ... e... 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 ... e... 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 ... e... 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 ... ... e... ... ... e... ... ... e... ... 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 E... ... ... F... ... ... ... E C... 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 ... C... C... ... ... Questo è affermato in tutte le scritture. Per qualsiasi scrittura portatemela qua e io vi farò vedere dove è menzionata. Questo è assolutamente autorizzato da tutte le scritture. Quindi noi dobbiamo sviluppare una forte sede in questo che è praticabile. Per qualsiasi scrittura portare questo santo nome precedente noi potremmo essere eternamente felici. Che dire per coloro che cantano il santo nome del Signore? Colui che non ha cantato fino adesso fino adesso colui che non ha nemmeno cominciato a cantare e solo pensando che ha ascoltato dai Vaishnava, dai Sadhu e ho letto anche nelle scritture. Quindi i Sadhu mi hanno detto e le scritture ci informano. Questo canto del nome precedentale del Signore è estremamente potente. di beneficio per tutte le entità viventi dopo aver conosciuto la sua importanza se uno solamente pensa di cominciare a cantare perché una persona non ha ancora cominciato non ha praticamente cominciato ma solo dopo aver conosciuto aver stato informato dell'importanza di questo canto della potenza di questo canto quando lui pensa, desidera di cominciare a cantare solo ha il desiderio di cantare sapete qual è il risultato di colui che semplicemente desidera cantare? il risultato che ottiene colui che canta, che pratica il canto del santo numero lo ne discuteremo dopo ma adesso parliamo solo del risultato che ottiene uno che non ha ancora cominciato a cantare ma che ha solo desiderio di cantare qual è il risultato di colui che ha solo desiderio di cantare? qual è il risultato? adesso discuteremo edito quando lui decide quando lui decide e decide che da ora in poi lui canterà il suo nome quando ha preso questa decisione e non ha ancora cominciato e solo ha deciso nella sua mente che vuole cominciare quindi immediatamente dopo aver preso questa decisione allora Duritani Beponte tutti i peccati che sono presenti nel suo cuore tutti i peccati che sono presenti nel suo cuore cominciano a tremare e cominciano a pensare oh questo ha deciso di cominciare a cantare il santo nuovo no no tutti i peccati cominciano a pensare a aver paura perché sono coscienti che dovranno abbandonare questo corpo questo è certificato nella scrittura ed è detto da Lupa Goswami stesso nel Padiavari nel Padiavari nel Padiavari questo è estremamente autorevole ed è vero so Beponte Duritani ora Sintu Icer Presenti in Davori tutti i peccati che sono presenti nel corpo tutti cominciano a tremare e a rendersi conto che se ne dovranno andare perché se noi stiamo qua e pensano e quando lui comincerà a cantare per noi sarà un grosso problema tutti i peccati cominciano a pensare che sarà molto meglio abbandonare il corpo prima che quella persona che sta dentro il corpo comincia a cantare il santo nuovo quindi tutti i peccati cominciano ad abbandonare il corpo però quando quei peccati abbandonano il corpo loro hanno bisogno di un altro posto dove stare quindi dove andranno? allora loro cercheranno una persona che non ha bisogno di cantare quindi loro andranno e entreranno nel corpo di coloro che non hanno bisogno di cantare solo grazie al desiderio tutti i peccati cominciano a fermare e vorranno andare noi adesso siamo molto attaccati l'uno all'altro noi siamo pieni di falso ego non siamo in grado di controllare il nostro ego perché in questo modo materiale è estremamente difficile abbandonare il nostro ego è estremamente facile diventare arrogante è molto difficile diventare umile quindi noi non dobbiamo fare nessuno sforzo per diventare arrogante l'arroganza si manifesta spontaneamente in un'unica sì lo sforzo nostro deve essere quello di diventare umili perché per diventare arrogante non serve bisogno di nessuno sforzo perché tutte le entità viventi sono piene di arroganza che dire deve essere umano? fin dalla più piccola entità vivente, dalla formica una piccola formica è così insignificante anche basta guardarla non gli dai niente, nessuna importanza è molto piccola tutti quanti mi sentite? perché la mia voce non è necessaria che la sentano tutti ma quella del traduttore devono sentire tutti i quarti la sentire tutti i quarti se stanno seguendo? se stanno seguendo? altrimenti dobbiamo aumentare il volume altoparlante di riguardo a segnare in modo che tutti potete ascoltare altrimenti non è possibile per voi comprendere appropiatamente quindi la formica è molto piccola a volte le formiche sono così piccole che c'è bisogno di occhiali per vedere però se solo tocchiamo quella piccola formica allora quella formica pensa oh, tu pensi che io sia piccola? e pensando che io sono piccola e tu mi hai toccato allora lei diventa molto arrabbiata ti faccio vedere io adesso quanto piccola sono e allora immediatamente lei ti fa riporterci nella nostra gamba e lei diventa così arrogante e arrabbiata non pensate che la sua arrogante sia piccola come lei e non pensate che lei si possa arrabbiare meno di noi lei diventerà così arrogante e così arrabbiata che si arrampicherà per mordere la nostra gamba e quando noi sentiremo il dolore allora noi gli diremo oh, mollami, non mi mordere e lei non sarà d'accordo e solo quando con la forza cercheremo di tirarla via lei magari morirà noi potremmo separare il suo corpo dalla sua testa ma la sua bocca rimarrà attaccata alla nostra gamba capite quanto possa essere arrogante anche una piccola formica non è per niente facile appardonare e liberarsi dall'arroganza ma come l'arroganza può essere subduro molto facilmente? quindi come possiamo sottomettere questa arroganza in maniera molto semplice? quindi come possiamo sottomettere questa arroganza in maniera molto semplice? colui che desidera accattare il nome trascendentale del Signore Supremo allora la sua arroganza di io e di mio tutto sarà sottometto tutto sarà distrutto automaticamente grazie alla misericordia del Signore Supremo e il canto del suo santo nome prima di cantare il santo nome per chiunque è molto molto difficile abbandonare il falso ego dell'io e del mio prima di iniziare il canto tutti pensano io sono questo, sono quello, sono su, sono giusto questo appartiene a me, questo è mio, quest'altro è mio questo mondo materiale esiste e sussiste solo per la combinazione di questo io e di questo mio questo mondo materiale è pieno di io e di mio non pensate che sia facile abbandonare questo falso ego fino a che uno non comincia a cantare ma dopo aver cominciato il canto non dopo aver cominciato il canto non dopo aver cominciato il canto no, non solo non aver cominciato il canto già quando desideriamo solamente di cantare non dopo aver cominciato il canto 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 quando qualcuno desidera cantare il santo nome del Signore quando qualcuno desidera cantare il santo nome del Signore D'oro e di giusto ma d'oro è un malazzo si 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 non lo capisco allora 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 per favore in Italia adesso come in questo stato italiano Non solo in tutto il mondo, ma come nello Stato italiano per qualsiasi Stato in tutto il mondo, se qualcuno commette qualche attività criminale, allora il Governo di quello Stato ha organizzato una polizia per catturare i criminali e metterli in prigione per dargli una punizione. Perché il Governo ha creato questa polizia, le prigioni e i guardi per dare l'insegnamento a tutti i cittadini che noi, nessun cittadino, deve mai commettere delle attività illegali o criminali. Quindi per fermare questa pratica, questa attività criminale e per rendere tutti i cittadini tranquilli e felici, per rendere la società ideale, ma a coloro che non seguono queste questione, coloro che non rispettano le regole che lo Stato ha stabilito per l'elevazione dell'attività dello Stato, per dare punizione a coloro che non seguono queste leggi, ha creato i carceri, dove i criminali saranno mandati per avere una punizione. In questo modo, il Signore Supremo, che è il controllore non solo dell'Italia o dell'India, ma che è il controllore di tutti i pianeti e di tutti gli universi, lui anche lui ha organizzato un corpo di politica, che commette le attività pecaminose, che non pratica la devozione, non crede più di lui, e non si ricorda più di lui, e non si ricorda più di lui, perché per loro che si impegnano solamente in attività illettiche e pecaminose, per loro ci saranno pure nella punizione, e per rettificarli e insegnarli a tutti, il Signore Supremo ha nominato una persona, che è come il Polizman of the Law, che è il Poliziotto, il Capo della Polizia del Signore Supremo, e il nome di questo superintendente della Polizia del Signore è Yamamara. Quindi, chi commette attività pecaminose, Yamamara, quando l'anima lascia il corpo e verrà incontro da lui, deciderà se mandarlo in prigione oppure no per dargli una punizione. Quindi, il nome della prigione del Signore, è chiamata, sono chiamati diretti infernali. Il nome del Poliziotto, del Capo della Polizia del Signore, o superintendente della prigione, è chiamato Yamamara. E come il superintendente della Polizia, non può fare tutto da solo. E il superintendente della prigione non può fare tutto da solo. E il superintendente della prigione non può fare tutto da solo. Lui non può preoccuparsi di curare da vicino di tutti i criminali. Quindi, lui ha assunto, ha ingaggiato un secretario personale che possa scrivere nero sugli arco di tutti i casi che si devono affrontare. chi è il commissario e quale attività ha commesso. Quindi, con base all'attività criminale che il criminale ha commesso, lui verrà giudicato e gli verrà incresa una punizione adeguata. In questo modo, Yamamara ha un secretario personale che si chiama Sitra Gupta. Quindi, avete capito chi è Yamamara e chi è Sitra Gupta? All of you understand? Avete capito? Sì. Quindi, Sitra Gupta è il secretario personale di Yamamara. Il compito di Sitra Gupta è che in ogni momento qualsiasi attività che ogni entità vivente sta compiendo su record all'attività. Lui la resiste. Pensare che, oh, adesso nessuno sta guardando quindi posso fare quello che voglio. I can commit any simple activity. E di poter commettere qualsiasi attività peccaminosa. Because no one looking to me. Perché non c'è nessuno che guarda. No, no, you might be here. No, questo non è possibile. Magari potete ingannare in questo mondo materiale. Like, you might commit some criminal activity in the street. Come se voi andate fuori e commettete qualche reato. And you can treat to the people. Allora potete ingannare le persone, la polizia di questa città, di questa città. But you cannot treat to the police, the police, the police, the police, etc. Ma, you cannot... People, even treat people, people who are not taking. Ah, voi potete ingannare le persone che sono intorno a voi. But the policeman will not have religion. Ma la polizia vi darà la cassa. If you are not able to care now, he will find you. In your case. Se non sarai in grado di acchiapparvi subito, lei farà delle ricerche e vi prenderà in un secondo momento. And the last thing will be caught. E alla fine vi avrete presi. No, it's not to a step. E non avrete possibilità di scappare. Similarly, we must treat some people. Quindi noi possiamo ingannare qualche persona. While committing sinful activities. E commettere delle attività pecaminose. But we cannot treat to the law. Ma noi non possiamo ingannare il Signore Supremo. Because he has engaged two persons. Perché lui ha ingaggiato queste due persone. Una è il superintendente delle pianeti infernali che è Yamarad. E il suo personale segretario che è Chitra Gupta. Come oggi giorno tutti i governi e le grandi compagnie. Tutte le organizzazioni commerciali. To get the criminal to control the criminal. Per attirare e controllare la criminalità. Now, they, Chitri, camera. Hanno installato ovunque delle videocamere. Videocamere solo. Before criminal to deliver. Prima vediamo come i criminali facevano i loro reati e poi scappavano, correvano. And no one was able to catch. E magari qualcuno era incapace di fermare, di catturare. Even policemen were unable to catch. Anche i poliziotti potevano non essere in grado di guardare dietro e di catturare. But now, not so easy to escape. Ma adesso non è così, non è più così facile scappare. Why if you run, if you run away also. Perché anche se tu riesci a scappare immediatamente. But that camera is recording your reactivity. Però c'è una telecamera che ci ha registrato. Che registrava quello che noi facevamo. So in the computer if you click. Se noi, se qualcuno va in un computer e schiaccia qualche pulsante. If you see the video automatically you will pick the camera. Potrà vedere quel video e vedere la, la tua immagine. Then wherever you may be dedicated. E quindi in qualsiasi posto noi possiamo scappare. E loro prima o poi ci troveranno. So, i, in questo metterlo a e bot up e compagnie. Quindi in questo mondo materiale quello che hanno fatto le compagnie. Is it going to catch the criminal? Per catturare i criminali. Then how? We can escape with the supreme boss. Se anche loro, se non riusciamo più a ingannare la polizia e le, queste viste che hanno montato le videocamere. Come possiamo ingannare il signor supremo? Who is it that Lord? Che è il signore. Super impersonale boner. Della suprema personalità di Dio. And he is an English policeman and this is the camera. Vai, si traduce. Lui ha ingaggiato un poliziotto e una potentissima telecamera che si traduce. So, si traduce anche fissa di camera. Si traduce come una telecamera fissa. Everywhere. Che vede ovunque. And it is our all activity. E tutte le attività di tutte le entità viventi. 21 hours. 24 ore al giorno. It is being recorded. Lui si sta registrato. In a dish of Citragusta. E tutto viene registrato nell'hard disk di Citragusta. So, now also, if we go to Citragusta. Adesso noi andiamo da Citragusta. And click to the computer of Citragusta. E apriamo il suo computer e chiestiamo qualche pulsante. Citragusta is recording. Quindi Citragusta sta registrando. And he is recording what kind of activity, what kind of people has done. E quindi lui registra qualsiasi tipo di attività di qualsiasi tipo di persona la sia facente. And Citragusta in Jamalara. And they are praying like the Supreme Supreme Guard of Christ. Citragusta e Yamalara sono state autorizzate dal Signore Supremo stesso a fare questo. And who are committing simple activity. E coloro che commettono attività pecaminose e commettono attività illecite e verranno presi quei peccatori e verranno messi nei genitori infernali e verranno puniti. Nel genitori infernali c'è un tipo di sofferenza molto molto acuta. Ci sono infiniti felici infernali. In accordo al tipo di reato commesso ci sarà un pianeta a forza per punire quel tipo di reato. Ci sono tre prominenti categoriche simulatiche. Tutte le attività criminali però possono essere premaritamente suddiviste in tre categorie. La prima è chiamata Pataka. Pataka significa normal simulatiche. che sono attività pecaminose comuni. Which is very common. Sono molto comuni, normali. Then maha pataka. Poi ci sono le maha pata. Then a little higher simulatiche. Che sono attività pecaminose più serie. E infine ci sono le alti pata. E infine ci sono le alti pata. Che sono le attività pecaminose più grosse e più pericolose. In accordo al grado dell'attività pecaminosa che viene commesso Noi saremo diretti verso quel tipo di pianeta infernale. Nel stesso modo in cui In questo stato in accordo al crimine che noi commettiamo Noi otteniamo una punizione dal governo. Per piccole attività criminali noi otteniamo delle piccole punizioni. Ma per delle attività criminali molto pericolose otterremo delle pene molto più severe. Dello stesso modo nei pianeti infernali che sono illimitati E ci sono però i principali che sono ventotto. E sono menzionati tutti quanti nello Shima Bhagavatam nel quinto canto. Ed è scritto quale pianeta corrisponde a quale attività pecaminosa promessa. Quindi in accordo al grado di attività pecaminosa che noi commettiamo c'è un pianeta infernale che ci aspetta. Quindi Chitra Gupta registra ogni giorno in ogni momento tutto quello che noi stiamo facendo. Quindi lui sta registrando tutte le nostre attività. Per chi commette attività pecaminose Verrà catalogato fra i peccatori. E quindi E quindi Niamarados farà una grossa lista di tutti i peccati e di tutti i peccatori. Io ho una domanda. C'era un grandissimo pregatore che si chiamava Adjamila. Perché non è stato portato da un pregamento? Il problema è un po' alla prossima. Io è una domanda. E la domanda è un po' di più raci. È un po' di più A CRI